Momento di tensione sul palco durante la cerimonia di premiazione degli Oscar, quello che sembrava uno sketch tra Chris Rock e Will Smith, è invece degenerato in uno scontro fisico con Smith che ha perso le staffe, si è alzato dalla poltrona e ha sferrato un forte schiaffo in faccia a Rock. Il comico che stava presentando il premio per i documentari aveva fatto una battuta sulla moglie dell'attore, Giada Pinkett, ti prepari per Soldato Jane 2 con allusione a Luca di Demi Moore. Tempo fa l'attrice aveva spiegato la scelta di rasarsi a causa di un problema di alopecia. Will Smith non ha apprezzato la gag di Chris Rock, così è salito sul palco e dopo aver colpito il collega gli ha intimato, tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca. Sembrerebbe però che più tardi i due si siano chiariti e Will Smith abbia chiesto scusa.